Questi tre semplici passaggi assicureranno che il tuo apparecchio Formula Pro Advanced eroghi ogni volta in modo preciso. Passo 1. Cerca l'impostazione per il tuo marchio e tipo di formula sul nostro sito. Questa impostazione ordina a Formula Pro di utilizzare il rapporto specifico Formula Acqua della tua formula per assicurare un dosaggio preciso del biberon. Quando cerchi l'impostazione della tua formula, considera sempre il paese di origine in cui è stata creata. Assicurati inoltre di selezionare il nome completo della marca e del tipo di formula. Ad esempio, il marchio Enfamil propone Gentlys e NeuroPro Gentlys. Ciascun tipo di formula può avere impostazioni diverse. Passo 2. Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurati che la formula in polvere rientri nelle linee minimo e massimo dell'apposito contenitore. Se la formula scende al di sotto della linea Min, non verrà erogata correttamente. Se durante la miscelazione noti parti arancioni o grigie, dovrai aggiungere più formula. Passo 3. Pulisci Formula Pro dopo ogni quattro biberoni. L'apparecchio ti chiederà di pulire l'imbuto per evitare l'accumulo di formula. Basta lavarlo e asciugarlo completamente prima di riutilizzarlo. Devi inoltre pulire la parte inferiore del contenitore della polvere per rimuovere eventuali accumuli di formula. Per semplificare la pulizia dell'imbuto, puoi acquistarne uno di riserva in modo da averne sempre uno a disposizione. Per informazioni più utili, visita il nostro centro informazioni Formula Pro Advanced o contatta il nostro team di assistenza clienti.